1.050 persone sono state assunte in Abruzzo grazie al bando della Regione Abruzzo che incentiva proprio le assunzioni. Sì, una misura che abbiamo avuto fortemente come Regione Abruzzo, in particolar modo il mio dipartimento, per incentivare le assunzioni di giovani, donne, ma anche over 50. Diamo un contributo, ma abbiamo avuto un ottimo riscontro in questa prima finestra che si è aperta a fine settembre, oltre i migli assunti, quindi un dato importante e vogliamo continuare a mettere in campo questa misura, quindi tutte le imprese che vogliono assumere oppure stabilizzare i precari, lo possono fare anche nel periodo di ottobre e novembre, perché poi riapriamo una finestra a gennaio. Quali sono le agevolazioni che hanno le imprese grazie a questo bando? Ci sono degli incentivi che vanno dai 4.000 ai 10.000 euro di contributo, in base al tipo di lavoratore che si va o a stabilizzare o a assumere, ma anche, ripeto, per gli over 50, che poi è il contributo maggiore, perché l'ho voluto fortemente, perché tanta gente perde il lavoro, poi non hanno i contributi per andare in pensione, non c'erano questi incentivi, quindi ho voluto anche andare incontro a queste esigenze e ad oggi, ripeto, questi dati ci incoraggiano e ci hanno fatto capire che la misura è giusta e quindi continueremo a metterla in campo. Dunque, ricordiamo, fino a quando sarà possibile partecipare? Si può assumere anche tutto il mese d'ottobre chi l'ha fatto, novembre, dicembre e la finestra si aprirà a gennaio, quindi anche se sarà fatta in precedenza rispetto all'apertura della finestra si può chiedere il contributo. Siamo felici perché dopo aver fatto una campagna in merito alla formazione, alla qualificazione dei profili con il potenziamento dei centri per l'impiego, adesso vogliamo dare un impulso ulteriore affinché le aziende assumano queste persone che sono in cerca di lavoro.